Io voglio sentire una bomba di urla, voglio sentire un'espressione di urla, voglio sentire oh, voglio sentire come nel centro di Torino quando gioca la Juve, nel centro di Torino quando fanno la Juve, oh, una bomba, Antani, Antani! Ci proviamo, l'italiano, come stai, solo l'italiano, io? Dai Zella! Dai Zella! Era dell'acquario, questa era Bevo in modo semplice, famiglia, amici e poi e poi, e poi, e poi ho conosciuto, ho scontato e allora tutto è cambiato perché mi sei scoppiata dentro al cuore all'improvviso, all'improvviso forse è il sol perché, forse è il sol perché in un istante, all'improvviso sarà perché ho scambiato in un istante, all'improvviso, all'improvviso con me e poi, e poi, e poi, e poi, e poi, sto imparando sperimentando sperimentando e allora cambierò il sol perché mi sei scoppiata e col cuore all'improvviso all'improvviso forse è il sol perché è il sol perché in un istante, all'improvviso mi sei scoppiata perché ho cambiato e tutto Dio si è scoppiata in me amo la vita, all'improvviso con me mi sei scoppiata mi sei scoppiata mi sei scoppiata mi sei scoppiata e all'improvviso all'improvviso non era arrivato e poi, e poi, e poi , e poi, e poi è il sol than Grazie, grazie! Siete bellissimi! Che figata!